Quando sembrava essere arrivato il momento più brutto, quando sembrava che fatica, infortuni, malassorte, dovessero far salutare l'anno con malumore, ecco che l'artista, da sempre presente in coach Lino Lard, è uscito fuori, pennellando un paio di capolavori di inestimabile fattura a risollevare, e di molto, il morale in casa GSA. C'è molto del coach in queste due vittorie, contro le corazzate Treviso e Fortitudo Bologna, ma i meriti vanno ascritti a tutti, come da grande professionista ha fatto subito dopo la sirena del Paladozza il general manager Mikalic, perché GSA AP Udine non è solo una squadra, è un insieme di persone che, per dirla proprio alla Davide, si fa il mazzo giorno e sera per garantire una serie, che una piazza come Udine merita. E il rush finale di 2016 ci ha lasciato qualche lacrima di gioia, ma soprattutto ha posto la più classica delle ciliegine sulla torta, in un 2016 che è stato spaziale a livello di emozioni vissute sul parquet, con la prima metà dell'anno vissuta a macinare risultati, a giocare, a vincere, con quel peso insito nella stagione stessa di dover vincere, e non c'è cosa più difficile di avere tutti gli occhi puntati addosso, di sapere che non si può sbagliare. La regular season Udine l'ha chiusa in scioltezza, diciamo con la sigaretta in bocca, metaforicamente. Poi è arrivato il bello, poi è venuta fuori l'anima della squadra, capace di infiammare appassionati e non, anche nei momenti più difficili, rimontando Bergamo, quando ormai tutto sembrava andare verso la più classica delle beffe. Invece, quella gara 5 al Benedetti contro la Comar, che è stato il primo atto di una risalita nella Serie Nobile, con la formalità della Final Four di Montecatini. Ci mettiamo le virgolette alla formalità, perché la formula dava molte chance alla GSA, ma per chi ha visto e chi ha vissuto quella bolgia rossa contro Forlì, beh, tutto è stato, tranne che una passeggiata. Un ritorno atteso in A, una grande festa, incontenibile, lacrime, tante, ma poi subito lavoro per consegnare un grande roster agli udinesi. Salutati Marchetti, Porta, Poltroneri di Giulio Maria, ha confermato il blocco della promozione, con un nobile cresciuto a dismisura. Poi qualche passo falso sul mercato, con Delegal e laser corretti dagli arrivi altisonanti di Cuccarolo, Traini, ma soprattutto Okoye e Rei. Fenomeni assoluti che si stanno ambientando alla grande in vista di un 2017 che vuole vedere la GSA protagonista. Ma prima di pensare al futuro bisogna godersi il presente. E se nel momento più duro asfalti treviso in casa e domini la fortituto al paladozza, vuol dire che la squadra ha attributi, anima, una grande struttura alle spalle, uomini veri in campo e fuori e una guida importante. Vuol dire che da queste ultime due vittorie si può mandare in archivio un 2016 stellare e pensare a un 2017 da vivere da protagonisti.